Cioè non mi sono mai accettato così tanto come in Corea Mai nella mia vita Io bannare Lux dai Guardate si sta colpendo di più sia a livello relativo gioco che di vita Ma mi piacciono perché sono tanto educati, sono civili Mi piace come parlano, sono molto rispettosi, sono educati, sono a modo, hanno good manner E sono molto attenti, sono puliti, lavorano molto bene Quali dei tuoi difetti pensi di aver accettato? Questo è il fatto che sono disorganizzato E il fatto che ogni tanto tilto Cioè ho accettato anche questo Cioè mi sono accettato del tutto Lui mi fa You have to understand what is your character E io risposto But I don't know what is my character and when I know it I don't like it E lui mi fa This is wrong You have to accept your character Charter, il tuo personaggio, chi sei? New Calavri, se mi in davanti Disco lo senza Nick All Tu 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 Ma non è stupido Ma non è anche ragazzi miei per i 4 mesi Che senti essere? Non è importante chi sono Ma è importante accettarlo in ogni caso No? E lavorarci E capi... Cioè è molto meditativa come cosa Non so come spiegarvi Cioè quando io sto davvero male È perché non accetto alcune mie debolezze Ma se le accetto i miei weak points And I accept also my bad points Then I'm good Prova, prova Oh Oh Abbiamo perso Sta... Ponderando sul pick Non ci pensare troppo che scade il tempo Paolo Ok Meno male Per un attimo Ho temuto Secondo me la le impostazioni Buggate Impossibile comunicare Prova Paolo Paolo Ok Ok Ho capito Vabbè chat Però non snitch Cioè se mi dite la burla Quale è poi non è più divertente Paolo ti hanno pregato la gag Vabbè Poi Ale Non posso fare vinta e niente No 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 Se vuoi Quale gag? Nessuna No King Mi sono semplicemente sentito male Quando hai parlato Va bene Adesso non sento più nulla Ma si gioca in Corea Mi ha detto il coach Allora gioco da Brown Perché so che tu puoi carriare Quindi uno normale ce l'abbiamo L'hai vinta quella di prima con Shyvana No Non sono riuscito Eh ma hai trollato Ho visto C'è stato un errore Ma Dai Era incredibile Via 3 Eeeh Ma questo Inizia a making excuses Questo Non lo metto in dubbio Ha più che altro sto fatto Che posso chiamare gli obiettivi Perché qua non fanno un obiettivo Tu puoi chiamare tutto quello che vuoi Perché non è che io da support Posso startarmi il drago Ciao Paolone Vai che ing Parla frago Prova prova Non ho capito bene come funziona lo sciacco Se c'è qualcosa di buon Se lui mette le trappole E ci fa male Ok Kindred mi sa che è granca mid E' molto rushato No poi te di push Va bene Per questo non mi sembra la cima Ok Zello non c'è sto a pedale Sta giocando dal lato Che Kindred sta giocando io Eh ping Posso lo è Mi sembra che mora dalla botta Alla fine Poi questo è un problema King Hai visto? Eh Vabbè c'è il mio fiore Che fa uno di nostri No Ma perché si stanno rubando King Penso che sia un problema Capito? Hai capito E' un altro gameplay E' tipo sing E' come bard top Capito? Mi serve una manina qua E' tu King Non ti preoccupare E' anche capitata la stack Nel lato giusto Mi ha messo il giusto Ignite Ciao Dai Nice Brown contro di questi E' proprio Non è C'è che Alizia e Kindred Sono lì a tirarmi le caramelle In testa Oh shit Ok Sono molto Comunque questi qua Sono molto Intenzionati Non so come sperarti Giocavo tutto Molto Riflessi E tutto per andare veloci Non so come sperartelo Cioè anche se è una cazzata Però la fanno velocissima Capito? Forse io ne ammazzo Forse due ne ammazzo Vedi cosa intendo Premi tassi a casaccio Di quel flash E' anche col lato Con la wave Che stava pushando Verso noi Poi questi otp Sciocco a me fanno un po' Paura Non parliamo Parliamo dei compagni scarsi Parliamo di quello che possiamo fare noi Come disse un vecchio saggio Qual è il focus? Allora Bot deve regolare Io rommo mid Dallo scarsissimo Ione E comunque c'è il triplo dei minion di Silas Quindi rispetto per ce che vale Vediamo se Riesce A non credere Quello muore Ti può salvare Sì Sì Io non ho lei Ora l'ho che fu Aspetta vai Allora Non vuoi proprio Io rimango per due ore e mezzo Allora no Posso farci una piccola critica? Si vede che sei un papà e puoi morire Vuoi rimanere in vita per tuo figlio? Ma quello mi rompo d'assi Sì sì Che la pushiamo questa? Già lo sai Socio Voglia Ti ho detto una cosa un po' ovvia Scusami No no Figurati La placchina Per educazione Ma questo dici che mi spotta Mi sa io no Ma non ci voglio credere Ah è proprio così C'è ecco Ok Magari era un fantasmino che da piccolo era miope Molto miope come Alessandro Alessandro a 60 cm mi fa Dove sono gli occhiali? C'era sotto la faccia Ho detto ho capito è disabile Oh Il disabile non prende i soldi Quindi lo scam degli scam Assurdo Anche ancora io li danno Sicuramente Ione dovrebbe riceverlo Ecco qua ha fatto il black humor Ma no Molto scomodo ciò che hai detto Quei ancora non verrebbe perciato la tua battuta E' solo un po' strano Sto da male Deve fare più attenzione Sempre il discorso della vista Non vede la minimap Giochiamo a Birdrake La Kindred ha red Watch out Ok non giochiamo a Birdrake Questo l'hanno appena preso Quindi mi sa che l'ha preso Kindred Dove regolare King Oh sto game è grave Cioè abbiamo a Fire che vince Io counter Kindred Kalista Contro Brown faccio caccare Ma almeno è uguale Ma se country Kalista Siamo in post in realtà Perché Cioè scusami Kindred Che è Quella fidata Alla fine Kindred Allora la counter con la E E poi la puoi stannare Quando finisce la sua ultimate Si è comoda E' terribile Mi faccio i tabi Il loro AP A 24 mil Bravo Nel chilling Goi di questa esperienza in Corea Invece di Fammario Dai Sono super chill Dai scrivilo Scrivilo Quello che vuoi scrivere in chat Dai Io ne go Go to hell Non è vero Drago Allora Sai che io la provo sempre il draghetto Allora però aspetta Non era meglio prima che ancora la botlin No Stava messo Ti state fai dando Vento Un po' il drago arrivo Adesso vende la mia Sto venendo Sto venendo Non ne muore alcuno No Vabbè Un po' sfortunati Sciacone Adesso il drago non si può più fare Si è girato Alla ultima No L'avrei dusata un po' prima Eccolo là E' lui Il cane di cane E' una pingata Se è morto Non perde niente Se pusho questo Legit rimbalza la wave Fragola Wave management Miglio Che è di top laner Chissà perché Ah Pusho verso di noi tra l'altro così Pusho verso di noi Guardate che parla come un mid lane Praticamente Ma troppo riesco Vado Però minchia è utile per carriare così Non solo più Più ti fidi Più carri Comunque Sciacone fa molto danno Ok Beh è qualcosa Di cui non ti capaciti Ok Cioè tu muori E dici Ah E poi giocano Molto uccisi Molto Qui ci vogliamo chiaramente Devar Sto venendo a botta Eh no Hanno inventato Hanno inventato Se vi davano ci sono Eh li vuoi sciotti i box Sono male Adesso si Guarda Se non ci sono Quindi dalla ultima Siamo weak side Siamo 4v3 Arriva Ione ma Ripeto Siamo 4v3 Non mi è capo Si è fermato di nuovo Se non ci sono Koro E' ancora Mi è into I'm out of position Amica Fiora Comunque secondo me Fiora è la tua regione per Fiora Possiamo vincere 4 di 5 Non d'accordo Non lo so, ping, non credo Ulti Muori? No Ora viene Shaka Mid Vediamo Andrea Può comunque uccidere Guarda che fa un fracco di danno Ricordati quello che ti ho insegnato Riesco a prendere la vision Ma forse c'è il go the booty time Sto giocando un po' male sai Tranquil tranqui Non penso che muacchia mai Fiora Penso che muacchia sia un minuto Quindi deve l'ultare, è morta E scemo anch'io con te Guarda che si vince 4v5, ma proprio io si pigi Non c'ho Allora, Mokai muore, Shaco dubido Ho la ultimate, devo l'ultare Vado qui per Shaco Inez su di lui Vado anche per Shaco Ho preso, ho il carretto Le intano le battite agli stranieri comunque Mamma mia, ma veramente sono degli inti più gustosi Altro che US Intano molto di più Ma intano proprio Non fanno soft hinting No, no, sì, sì Proprio Cioè proprio Ma fanno in meia professionale anche quello Sì, sì Questo sta in tanto esempio Se mi ingaggia non muoio Ricordati che dobbiamo giocare attorno a me Cioè non attorno a me, attorno a te Ma se io tanko il primo inizio è apposto Sì, sì, lo so Doviamo però rafforzare il drago? Per me vinciamo 4v5 facile facile Riesci a knock a parlo e cosa vuoi Con calma, eh? Palla ulti, eh Arriva Ah, quella la ulti, eh Eh, troppo tardi Sfigato perché E' entrato E gli altri neanche dato Non avevo una spell per entrare Sciaco su Ezzi Muore Vedi che so' forte, eh? Invece gli Ezreal mi fanno cagare Gli Ezreal io l'ho visto forti A me piacciono i Grace E le Caitlyn E i Seth, secondo me so factissime Meglio che non ropa il giorno Guardalo, guardalo, guardalo Puoi dare fastidio alla fiera In base Io giocavo il barrel t1 Oh Forse che il calessa int Oh, suink comunque è facilissimo Il carretto ce l'hai tu Ink, sai cosa succede? Ah, mi serve Per la cosa Perché quello è andato off Quindi c'ho Ah, hai farmato troppo Beh, quella roba ti viene arfata tantissimo Ah, ok Ma è la prima volta che mi capita da quando sono arrivato In Corea In Corea Solo perché il tizio era Quindi Ho un bel posizionamento Ma ok, l'ammazziamo C'ho anche l'ignate Non ho la ultimate Mi sa che ti fa uscire subito dalla costa Ok, sì Ho un po' Ho un po' Un po' Un po' No, ho un po' E ci mettiamo 43 ore Allora sono veramente Come posso dirti? Annoying No forse non per Devo scappare Quello ti ulta Io ti guardo Forse ho inventato qua No perché c'è pure l'ult Ah l'ult C'è la roba che ti fa fare più dps Ti fa prima la rub So che mi fai 1v9 eh king Non ti preoccupare Yes Ah infatti non sei Ciao a vestire preso Guarda che parte senta tenendo la scuola Allora ulti 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 Ah Ulti Ulti Non la ulti Stai dentro No Ok Non è vero, non è vero. Muore pure quello Va bene, è andato bene Va bene, ma poi Fiora ti ripeto È troppo forte contro di loro Prendiamo la mid, prendiamo la box Khaleed Severo è molto forte con la ulti di Kindle Perché può staccare la E e poi te la renda Eh, sì Bastidiosa, stai Ok, sto prendendo una buona vision per il Drake Il prossimo Drake lo possiamo contestare e lo vinciamo sicuro Prendiamo forza Potrebbe entrare Ma Ha ripreso il drogare, forse Questa è la mia Nice Il baron no Il drake Mi scambiamo pure tutta la giungla Qua non c'è neanche una ward Potrebbe anche colarci qualcuno Ma dubito Ti è andata male no? Ah non ti serve No no prendiamolo No più che altro forse non dobbiamo regolare tutto Tutti Ma noi ci dobbiamo pure la top side No no ma ce l'abbiamo il tempo Ci sono anche gli extra Questa è una buona cosa gli extra Ti faccio Poi c'è uno kinder calista Questa minchia la potevano almeno pensare come cola Invece non ci sono nemmeno ricevute Dovebbe essere sciato da questo Parti attenzione perché magari qualcuno potrebbe rimanere qua In the same thing No Hanno spiegato Ogarino Cioè questo esce dalla bocca di uno E viene preso a pugni e uccisato tutto C'è terribile Potremmo forzare baron ci giriamo A me la call E' una call che mi piace la tua La vision è perfetta Occhio 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 Questa è il gigante Posso Posso Soltarli Con calma Qua c'è anche Ione Makai muore Entro dentro E vinci vinci sempre Dovete solo Ah mica sto sciato a una rottura di cazzo incredibile Non muore nessuno Un calma King C'è sempre i box di sciato Spita male Un po' dalla fine Ma basta Ma basta In realtà non ci sapi Ma perché ci dimentichiamo Di queste box di sciato Di merito Capito Quello muore Anche l'altra Mamma mia Baron Baron Ma comunque si vede Che c'è ancora lo basso Ma meccanicamente Sono bravi Che proprio sono scemi Non so come spiegarti Cioè fanno una roba a 9 E poi sbagliano le 2 Capisci quello che intendo Grazie Antonio Ma tutto bene Ti sento un po' No 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 Ci sono E' concentrato Vabbè ora Vabbè concentrato Non vuol dire incazzato Però No 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 Prendi Però non sia una call di merito King No 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 Che ne fa Come fa Ultile Zri ha sparato A Sylas E ci ruba il Baron Non l'avevi letta Questa eh Ma doveva avere però No Non so se è il meglio Randwin Il Frozen Pensa a Randwin Se la mia è Frozen Ma sai perché di carlandwin Perché E' vero che slow attack speed Però con brown Tu E' il primo E' il primo a tankare No Quindi non ti serve tanto Slow attack speed Meno muore No no Ah non solo threat Cioè Ah non solo threat Guarda 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 Avvicinati avvicinati Roll assist Tutto qui Non fa niente Perché evidentemente non volga abbastanza Mettere l'asportale C'è una kinder qua Che ha sbagliato il jump su un muro Ed è morta Oh abbiamo entro 4 di 5 eh Yes Hai fatto tutto tu però questo game Io solo ti ho fatto per te Dico la verità C'è il vero carry Il number one Dobbiamo fare anche complimenti a Ione Che l'ha trittato eh E' male E' un'altra parte grande Non ho mana per niente Io sai cosa faccio Premo qua dentro Ho un venenza anche Premo con la dentro Tu dici che hanno solamente un critico Però mi sa che Ne hanno due di critico Non credo Kindred non fa danno critico? Eh kindred è critico E kalista? Vabbè non è più Danno di rendo Vabbè è vero E' vero ragione tu Comunque tu sei un papà E' brutto dire cazzare a tuo figlio vero? E' brutto dire? Cazzare Tipo cose non vere Gli ridici mai? Beh capita In qualche situazione Tipo se non fai questo Non ti porto Non lo so No no vabbè questa no No non lo fai E' un'azione sana Con il tuo figlio Qui ci dovrebbero essere nemici ma Ne possono cantare una canzone Esatto C'è Fiore che bella Cosa stiamo facendo Perché c'è il Nexus Open E noi pushiamo Tiriamo dritto Ok Vogliamo prendere tutti i vitori Per assicurarci che i miei Non distruggono la base Questa Non so per un senso di competenza Questa E' molto assiatica Questa cosa Penta 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 Le mi penta Le mi penta O se la puoi prendere Vabbè 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 I'm fine È la devil Cazzo Vabbè Va bene GG GG Goal 2 Vabbè 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 Vabbè